buongiorno e benvenuti nel mio canale dns è l'acronimo di domain name system e servono i dns per convertire quelli che sono gli ip numerici dei siti web degli indirizzi dei siti web invece delle stringhe testuali per esempio un sito è molto più semplice ricordarlo con il suo nome che non con una quartina di numeri che vanno da 0 a 255 e che quindi sono molto sarebbero molto più difficili da ricordare un indirizzo ip classico è 192 punto 168 punto 1 punto 1 cioè sono quattro cifre che vanno da 1 da 0 a 255 e che quindi sono molto difficili da ricordare invece chiaramente se uno può cercare per esempio il sito del corriere o di repubblica è molto più semplice da ricordarsi il loro indirizzo dunque i dns servono appunto sono dei server che servono per convertire gli indirizzi testuali in ip numerici e viceversa e vengono in genere impostati nel computer ma anche nel cellulare oppure anche anche nel router nel direttamente nel modem prima c'era la versione 4 ip 4 che appunto forniva quattro numeri che vanno da 0 a 255 e che permetteva di arrivare fino a 2 alla trentaduesima indirizzi cioè circa 4 miliardi ma visto la popolazione mondiale visto il grande sviluppo della telefonia mobile questo sistema della versione 4 dei dns non è più sufficiente allora sarà passate alla versione ipv6 con 8 gruppi di cifre esadecimali cioè che vanno da 0 a 9 con l'aggiunta di abcdf e in questo caso numero di indirizzi diventa 2 alla 128 e quindi un numero veramente straordinario pazzesco dunque ci sono vari servizi che vengono offerti per convertire i dns c'è quello automatico di windows che in genere l'80 per cento credo delle persone hanno quelli nel computer oppure anche nello smartphone ma si possono usare dei servizi esterni come per esempio google quello di google che ha come indirizzo 8888 nella versione 4 che anche un indirizzo alternativo di 8844 oppure cloud cloud player open dns con 9 comodo norton dns clean browsing questo serve per chi vuole bloccare siti per adulti oppure yandex che sono i dns di un servizio russo e poi ovviamente sono gli ipv4 ci sono anche gli ipv6 io vi ho mostrato come cambiare i dns sia nel computer qui quelli sono in quelli che sono i migliori anche o se sia anche nel computer windows 10 ma sia anche su android eventualmente metterò tutti questi questi riferimenti sotto il player del video però ultimamente sia chrome sia edge hanno implementato una funzionalità per cambiare i dns direttamente la frase cioè non occorre quindi più cambiare dns dal computer o dallo smartphone ma si può cambiare direttamente dal browser ovviamente mi riferisco al browser desktop non so se sono attivi anche nel browser per dispositivi mobili ma se noi vogliamo cambiare i dns dal browser e usare dei dns di un servizio specifico andiamo su questo è chrome lo possiamo fare sia su chrome sia su edge andiamo su chrome si clicca su menu e poi andiamo su impostazioni su impostazioni si va su sicurezza si scorre la pagina verso il massimo come vedete usa un dns sicuro si può lasciare la spunta con il tuo attuale fornitore di servizi che in genere è quella di default chiaramente oppure si può usare un dns personalizzato direttamente impostandolo dal browser si mette la spunta qua e come vedete qui si può scegliere tra quelli che abbiamo già visti open dns google public dns clean browser quello per filtrare i siti per adulti oppure anche cloud player anche con cloud player si possono filtrare i siti per adulti andando ecco qui vedete utilizzando 1 1 1 3 e 1 0 0 6 come alternativa invece del classio 1 1 1 1 e 1 0 0 1 dopo aver che sia impostato quello i dns che ci occorrono che ci interessano andiamo qua ad esempio se io mettessi clean browsing se io tentassi di aprire un sito per adulti questo questo sito non si non non si aprirebbe potete fare la prova io non ve la posso far vedere chiaramente però potete fare oppure potete lasciare la situazione attuale questo si può cambiare anche direttamente da edge andiamo su edge questo edge si va sempre sul menu e andiamo su impostazioni e poi andiamo su privacy o privacy privacy in inglese privacy in americano dunque si va su privacy ricerca e servizi si va si scorre verso il basso e come vedete anche qua si c'è l'opzione per usare dns si possono usare dns sicuri oppure si può usare un nostro provider la nostra scelta si mette la spunta qua in questo caso e si mette il provider personalizzato anche qui si può scegliere tra clean browsing quello per femmini filter quad 9 i dns di google gli open dns oppure i dns di cloud 3 che sono anche quelli tra i più veloci infatti io qui ho messo anche in questa ho messo anche una tabella di quelli che sono più veloci veloce cloud 3 poi c'è quello di google quad 9 clean browsing dunque però si possono come visto si possono cambiare dns direttamente anche dal browser dal browser desktop si possono usare i dns personalizzati anche nel browser mobile di chrome mentre non ho trovato questa impostazione non l'ho ancora trovata su edge su browser mobile di sull'app chrome per il mobile si va sempre su menu in alto a destra e quindi si sceglie ovviamente impostazioni si va su privacy e sicurezza come vedete c'è usa un dns sicuro in maniera automatica oppure si può impostare il nostro dns si sceglie un altro fornitore qui e in personalizzati ci sono le stesse opzioni che abbiamo visto nel desktop nel browser per il desktop cioè cloud player clean browsing google e open dns e quindi si può scegliere uno di questi fornitori prima di concludere vi mostro come si possano cambiare i dns anche con opera e parzialmente anche con firebox questa è opera si va nel menu qui quindi si va su impostazioni in impostazioni si va su avanzate riservatezza e sicurezza si scorre la pagina verso il basso si va su sistema qui come vedete e si imposta dns ova https che viene chiamato anche d o h t o h e come vedete qua il server dns cloud player che è quello predefinito si può scegliere anche cloud player for families senza malware oppure cloud player for families senza malware e contenuti per adulti oppure anche i dns public di google oppure se si conosce si può inserire un indirizzo di un server dns diverso e quindi personalizzarlo ulteriormente questo per quanto riguarda opera su firefox discorso è un po' diverso si va su menu quindi su opzioni qui si cerca dns nelle opzioni dns eccolo qua impostazioni di rete ci va su impostazioni dei dns e qui si può configurare un diverso dns però con la cosa non è semplice qui utilizza il provider come vedete c'è il cloud player quello predefinito qui però poi ci sono soltanto i next dns e niente altro si può scegliere uno personalizzato però bisogna conoscere l'indirizzo e questo è veramente tutto alla prossima volta